I concorrenti del Grande Fratello 13 ora si godono la popolarità acquisita. Mirko Petrilli, il contadino uscito vincitore dal reality, ha fatto festa a Radio Manamana, ospite del programma condotto da Giada Di Miceli. Con lui anche Roberto Ruberti e Diletta Di Tanno, con indosso il suo abito in maglina sexy e scolatissimo e apparsa radiosa. Tanti fan ad attenderli con impazienza. I ragazzi, ormai orfani di Alessia Marcuzzi, hanno fatto selfie, firmato autografi, ricevuto regalini a...